Occhino a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans signori E quest'oggi siamo qui con un video particolare Se avete visto sul canale è uscito il video dove andavamo a provare i mecha pekka E quest'oggi siamo qui per provare le super mega streghette che sono veramente fortissime signori Quindi le proveremo subissimo Ma prima di iniziare voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione c'è il link della mia madre wishlist Se volete passarci e darci un'occhiata ma rifarmi un regalino e ne sono molto molto onorato Inoltre c'è il bellissimo sito di cofido dove potete fare l'azione singola o a carenza mensile Scegliete voi il prezzo, scegliete voi tutto, direi che è molto molto onesto Inoltre voglio invitarvi anche a condividere il video con i vostri amici importantissimo Perché più siamo e meglio è soprattutto ad iscrivervi al canale Perché ho visto che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti a voi, non costa nulla A me fate un piacere enorme, immenso e se attivate anche la campanellina Rimanete sempre aggiornati su tutti i video e vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato Tutti i giorni 14.30 puntuali sul canale mi raccomando, mi raccomando signori Ma passiamo subito a vedere le truppe degli attacchi che andremo a fare quest'oggi E sono le nostre bellissime streghette, questa truppa evento che secondo me è veramente sgravata Perché fa veramente il panico di danni Quindi ne abbiamo aggiunte ben 12, abbiamo messo 4 mecia pecca Giusto per coprire un pochettino di più, per tankare un pochettino di più le difese E poi ci abbiamo messo dietro 20 sgherri giusto a pulizia finale del villaggino Come pozioni abbiamo messo 2 cure, un agelo e altre 3 che vengono dal castello del clan E 2 clonazioni che andremo a realizzare sulle streghette Ovviamente è la prima volta nel castello del clan Tra l'altro abbiamo messo anche 4 domatori e 2 golem di ghiaccio Ovviamente con il dirigibile È la prima volta che provo questo attacchino Quindi lo proveremo in diretta Speriamo che funzioni bene come l'ho pensato Ovviamente andiamo a cercare subitissimo un villaggino Dobbiamo stare attenti a cosa troviamo Perché ovviamente sono basso di trofei per il farming estremo Però magari se troviamo un villaggino interessante Possiamo magari attaccarlo Ovviamente io cercherò di trovare un TH16 Quanto meno, non vi dico maxed ma più o meno E soprattutto non, guardate quanti villaggi stiamo schippando Soprattutto non inattivo Perché se no ovviamente non possiamo valutare l'effettiva potenza Di queste truppettine qui Ovviamente è interessante attaccare magari anche questo Per dirvi Questo villaggino ha difese molto molto basse Ci conviene attaccarlo signori? No perché se no non lo valutiamo Aveva tante risorse però Quello era buono per le risorse Però le difese erano veramente molto molto basse Questo qui diciamo che Su per giù Su per giù Ci può anche stare Ci può anche stare Quindi direi che secondo me Signori questo ce lo possiamo attaccare Facendo una tattichina un po' particolare Allora innanzitutto ricordiamoci di mettere Il dirigibile e potenziare gli eroi In modo che possiamo utilizzare Tutto quanto al massimo della potenza Ovviamente potenzio anche l'esercito Così abbiamo anche la clonazione al max E possiamo iniziare con il nostro attacchino Allora io ovviamente vorrei magari Piazzare un paio di sgherretti qui Giusto così a caso Per pulire un pochettino il torno E mettere subitissimo questi qui Con la campionessa dietro Il dirigibile E poi ci spariamo Tutte le nostre streghette Che in realtà dovremmo anche pulire Prima di tutto Le torri dello stregone Che io mi auguro che riescano a pulire Ovviamente si va dietro con gli eroi Iniziamo con la prima clonazione lì La seconda clonazione qui in mezzo L'abbiamo piazzata veramente molto molto male Perché mi sono scordato Ci risse rincoglionito Mi sono scordato signori Di distruggere prima le torri inferno Però va bene Però va bene Stiamo attenti perché comunque l'attacco Potrebbe potrebbe andare a buon fine lo stesso Attenzione attenzione signori Perché comunque abbiamo tante streghette L'unica cosa che abbiamo sprecato Purtroppo sono le clonazioni Però effettivamente Guardate Quanto sono Fottutamente forti Queste truppe Intanto mettiamo un po' di sghieri Addietro a pulizia Cioè queste Streghette Sono esagerate Signori Sono veramente Fortissime Cioè noi abbiamo Praticamente finito Di distruggere il villaggio Io neanche ho utilizzato Tutte le cure Non ho utilizzato Neanche l'abilità Del sorvegliante Non ho utilizzato Nulla signori Perché mi sono distratto Guardate quanto sono veramente forti Cioè Noi ci siamo fatti Tre stelle In un villaggio In una maniera Talmente semplice E soprattutto Giocandocela anche male Signori Me la sono giocata malissimo Però comunque abbiamo fatto Le tre stelle Questa cosa è Sgravata È veramente esagerata Queste truppe Sono molto molto forti Il secondo attacchino Che andiamo a fare Tra pochissimo Proviamo a utilizzare L'attacco Un pochettino meglio Ci stiamo più attenti Tra l'altro Vi diamo un pochettino Io nel mentre Nel mentre Vi dico così Ci mettiamo a fare Anche un terzo attacco Perché non si sa mai Potenziamo anche Le casermine Quello sta lì a fare Rifacciamo un piccolo Rinforzino Delle truppettine E direi Signori Che possiamo procedere Con il nostro Attacchino Cerchiamolo Subitissimo Tra l'altro Sta iniziando a piovere D'estate Sta facendo la pioggia Più Non lo so Devastante Perché voi Sapete I temporali estivi So il bordello Butta giù l'acqua Come non mai Però va bene Speriamo che non esploda Nulla Allora Questo villaggino Potrebbe essere interessante C'ha buone risorse C'ha belle difese Tirate abbastanza su Devo dire Noi partiamo Con l'attacco Diversamente Questa volta La cosa principale Da andare a fare Ovviamente È distruggere Queste due Torri dello stregone Qui sotto Che ci potrebbero dare Molto Ma molto Ma molto Fastidio E ci potrebbero far dividere Le streghettine Poi si procede Subitissimo Come prima Meciapecca Campionessa Dietro il diri GBC Mandiamo anche gli eroi Puliamo un pochettino I lati con tutto il resto E mandiamo le nostre streghettine Tutte dirette Che andranno Tra pochissimo All'interno del villaggio Stiamo attenti Anche con un gelo Magari E possiamo andare Con la duplicazione Più totale Signori Vai Tritti Verso il TH Facciamo il panico Facciamo il panico Signori Vai Gelo Stiamo molto 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 Attenti Le nostre streghettine Stanno spaccando Praticamente Qualsiasi Cosa Esistente Signori Direi che il 50% Intanto Ce lo siamo portati a casa Io non so Dove è finito Il mio Sorvegliante Dove ti trovi sorvegliante Perché devo capire Quando attiva l'abilità Ma non lo vedo È morto Si è attivata da sola Va bene Comunque Il villaggino Signori Vi devo dire Vi devo dire Vi devo dire Intanto possiamo piazzare Gli sgheretti A pulizia finale Perché tanto Abbiamo distrutto Qualsiasi cosa Guardate ancora Quante streghette Abbiamo in vita Signori Cioè Queste Streghe Sono Troppo Troppo Ma che dico Troppo Tantissimo OP Sono esagerate Sono davvero Esagerate Ovviamente Io adesso Con il terzo attacco Che tra pochissimo Sarà pronto Signori Voglio cercare Un TH16 Un po' più maxed Lo cerchiamo proprio Quasi full maxed Se riusciamo a trovarlo Mi auguro Con non troppi skip E lo proveremo Anche su quello Per capire Se effettivamente Dipende da Anche le difese O queste streghe Sono veramente Esagerate Come io credo Che siano Quindi ci vediamo Tra pochissimo Appena l'esercito È pronto Per continuare Con il terzo Attacchino Ancora più cattivo Bene Signori Siamo ritornati L'esercito È pronto Andiamo a cercare Subitissimo Il velacino Riusciamo a distruggere Cura 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 Abita del sorvegliante La piazziamo Bene Stiamo attenti Signori Che qua Potrebbe diventare Tragica Blochiamo Tutto Con le nostre Belle Gero Soprattutto Il monolito Che è diventato Invisibile Maledetto Se schiattano Anche Quei golem Del ghiaccio Ci fanno Un piacere No enorme Immenso Gigantesco Signori E comunque Noi il villaggio Ce lo stiamo Devastando Malamente Ma malamente Io attivo Anche la bilata Della campionista Giusto per dare Un piccolo sprintino In più Che ci sta Regà Che ci sta I golem Del ghiaccio Hanno funzionato Un po' poco Perché So Esplose adesso Potevano esplodere Tre ore prima Però vabbè Bene raga Però va bene Piazziamo Cioè è rimasto Soltanto da piazzare Isgueri A pulizia finale Signori Guardate Quanto Cavolo Forte Questo attacco Penso che sia Uno degli attacchi Se non L'attacco Più forte Che io abbia mai Provato Su Clash of Clans Ovviamente Abbiamo Tristellato Molto Molto Facilmente Un TH16 Maxed Signori Maxed Non sto parlando Di un TH16 Quasi Maxed Ma Maxed Quindi Difese Massimo Ovviamente Poi la composizione Del villaggio Relativa Indubbiamente Ci saranno Magari anche Villaggi più Complicati Da attaccare Ma Secondo me Se utilizzate Bene La strategia Tra l'altro Metto a fare Anche gli altri Barbarelli Per Farmi Per Fare Un po' Di loot Dopo Dicevo Regà Cioè Considerate Considerate Sì Ok Magari Il villaggio Era un villaggio Squadrato Era un villaggio Molto Ristretto Su villaggi Più Larghi Potrebbe Essere Più Difficoltoso Ma avete Visto Quante Truppe Sono Rimaste In vita Alla fine C'avevamo Ancora Tutti Pecca Mecia Che erano Esagerati Signori Quindi C'è Di cosa Vogliamo Parlare Questa Combinazione Secondo me È la più Forte In assoluto Cioè Queste Truppe Le streghettine Dell'evento Sono Sgravate Ovviamente Signori Vi invito A lasciare Un bel like Tra l'altro Qui a schermo Vedrete La combinazione Che abbiamo Utilizzato In questo Video Quindi Quattro Mega Peccia Sì Che cazzo Ho detto Me Ca Pecca Ok Era un attimo Un picciato 20 sgherri E 12 streghettine Cattivissime Due clonazioni Due cure Una gelo E altre tre gelo Che prendete dal castello del clan E poi vabbè Le druppe nel castello del clan Scegliete un po' voi In base alla vostra comunità Quelle che vi piacciono di più Però Signori Mi raccomando Lasciate un bel like Di supporto per questo video Un commentino Con scritto Cosa ne pensate di queste druppe Se le avete già utilizzate Queste streghette Se le utilizzerete Se proverete Soprattutto Anche la mia combinazione Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Perché io sono molto Molto curioso E soprattutto Ditemi Cosa ne pensate Se l'avete provata Ovviamente Come vi ci siete trovati Inoltre Voglio Invitarvi a condividere Il video Con i vostri amici Importantissimo Signori Perché più siamo E meglio E soprattutto Ad iscrivervi al canale Perché ho visto Che molti di voi Guardano i miei video Ma non sono iscritti A voi non costa nulla A me fate un piacere E enorme Immenso Se attivate anche la campanellina Rimanete sempre aggiornati Su tutti i video E vado a pubblicare Regolarmente dal martedì Al sabato Tutti i giorni 14 e 30 Appuntuali sul canale Mi raccomando Se volete passare Anche da Instagram A dare un'occhiata Dove ogni tanto Faccio qualche spoiler Di progetti Futuri mistici del canale Qualche spammettino Nelle storie Dei video Che sono appena sci Dateci un'occhiata A me Fa veramente Tanto piacere E niente Qui da Ciris E dalle streghettine Super OP È tutto Un salutone Bella Rega